Il pericolo rilevato Vedete quanti sono? Bisogna continuare a sparare! Risparro sei! Arriviamo in meno di un minuto! Neutralizziamoli tutti! Attenzione! Forze nemiche in avvicinamento! Non capteggiate! Grazie, non ci aiuto! Avanziamo e conquistiamo la zona! Prendete! E quale motivo ti nascondi? Ricidiamoli tutti! Neutralizziamoli! Non correte rischi inutili! Ora basta con questa torta! Avanziamo e conquistiamo la zona! Mettiamo il fuoco! L'hai seccato! Prendete un bersaglio ed eliminate! Sulla testa! Ci sfuggeranno! Bersaglio! Prendete un bersaglio ed eliminate! Sulla testa! Sulla testa! Perfetto! Un bersaglio! Non correte rischi inutili. Non cazzeggiate! Scendete un bersaglio ed eliminatelo. Non ci sfuggeranno. Non cazzeggiate! Preseccato! Non cazzeggiate! 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 Uccidiamoli tutti! Uscirai a un certo punto! Sulla testa! Hai beccato! Avanziamo e conquistiamo la zona! Fuoco a volontà! Non canteggiate! Uccidiamoli tutti! Forza! Spariamogli! Tagli la fondanza! Non si deve tenere così del cazzo! Uccidiamoli tutti! Scusiamo noi! Non è uno scontro in Parigi! Un colpo! Area in sicurezza! Nemici neutralizzati! Non è uno scontro in Parigi! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.